Pronto? Pronto? No. Sono Lucia Costantino Murgolo, residente a Bari, in via De Rossi, e le scrivo per raccontare il comportamento dei vigili urbani, che presiedono il mio quartiere. Scrivo all'indirizzo e mail di mio figlio, in quanto non ne possiedo uno, uno specifico, domenica, 22 novembre, alle ore 19, in via Garruba, di fronte al civico 10, all'angolo con via De Rossi, l'autovettura familiare Ford Focus, intestata a mio marito Murgolo Michele, sostava, non ostacolando il passaggio sulle strisce pedonali, né lo scivolo per il percorso dei nove denti. Ma stavo all'angolo, però. I vigili, l'aereo, questo vigilo lo conosco, e squimbolo, squimbolo... Non facciamo nomi, non fare nomi, per favore. Scusa, vabbè, l'ho già fatto ormai. Multavano in nostre auto, segnalando come motivazione l'articolo 158 codice 11, ovvero la sosta in corrispondenza dell'intersezione, ed inoltre aducevano come motivazione la mancata esposizione del contrassegno disabili, preciso, che venivano multate anche le altre tre auto che, come la mia, sostavano ai quattro angoli dell'incrocio. I giorni seguendo questa informazione di questi vigili della zona, mi è stato confermato che la mia auto non sostava in maniera irregolare. Preciso che è da un po' di tempo, ed è questo il vero motivo per cui le scrivo, i vigili e gli ausiliari della sosta multano macchine anche quando queste non commettono irregolarità. Ad esempio, anche se queste espongono il contrassegno per l'autorizzazione alla sosta nelle zone a pagamento, multe che abbiamo pagato in un primo momento perché è così consigliatoci dal comando dei vigili urbani, ma che ora sono oggetto di contestazione del caso di Circo Messe e fa il mio figlio Cristiano. Le chiedo scusi di averlo disturbato, ma credo sia giusto mettere a corrente la caduta prima di pagare e intraprendere un ricorso per la multa ottenuta. Conoscendola, sono sicuro che la mia non rimarrà una segnalazione. Allora, io devo essere sincero, dalla lettera si capisce, per come erano parcheggiate le macchine, che ciascuna delle macchine era all'angolo. Ora, può darsi che io non abbia capito bene, però se... Se vuoi te la spiego io. Perché se non vuol dire che l'assi scritto tu. No, 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 tu partecipi emotivamente solo alle proteste contro i vigili. No, ti spiego, ti spiego Michele. Noi commettiamo tanti errori. Sono state fatte le discese per i disabili e le strisce pedonali sono state spostate. spostate e uno parcheggia l'altro. Allora, hai la possibilità, soprattutto in una città che non ha molti spazi, di mettere la macchina all'inizio dello scivolo, però all'angolo certamente. Però lì c'è l'obbligo della distanza di 6 metri dall'angolo. Ora, mi rendo conto che i vigili ovviamente alle volte applicano formalmente le regole. Nel caso in cui però voi riteniate di avere subito davvero un torto, potete, oltre che scrivere a Dillo Emiliano, inoltrare ricorso contro questa multa o anche scrivere al comandante dei vigili, che è una persona benevola perché, diciamoci la verità, i vigili fanno comunque un centesimo delle multe che dovrebbero fare, fischiano, cercano di spostare. Certo, non sempre poi le cose vanno bene perché sono 650 persone, ciascuna di loro ha una propria mente, ha un suo modo di interpretare il rapporto col codice della strada ed è così che deve avvenire perché non esiste che il comandante dia delle disposizioni su come interpretare il codice della strada, sarebbe un abuso in atti d'ufficio, neanche il sindaco può dire a un singolo agente anche appena assunto, tu, lo so, la doppia fila non fare le multe, perché un ordine del genere sarebbe un abuso in atti d'ufficio, 323 del codice penale, è un ordine illegittimo al quale peraltro il soggetto non è tenuto neanche a obbedire, proprio perché si tratta di un ordine illegittimo. Ogni vigile nel nostro paese deve interpretare il suo ruolo con quella intelligenza, con quella capacità, come posso dire, anche di educare le persone facendo qualche volta anche a meno di fare tutte le sanzioni che pure sarebbero previste dal codice per creare anche quel rapporto con la cittadinanza che è di natura educativa e non solo sanzionatoria. Naturalmente non tutte le persone sono in grado di vivere la complessità del lavoro del vigile, dell'agente di Polizia Municipale in modo tale da creare questa empatia. Normalmente in tutte le città d'Italia la Polizia Municipale, un po' come gli arbitri di calcio, viene spesso abbastanza considerata male dalla popolazione, però io devo dirvi che sono ragazzi e ragazze che stanno continuamente in mezzo alla strada, in mezzo agli scarichi che prendono le botte dai pazzi, che vengono sistematicamente maltrattati, considerati anche spesso degli aguzzini, in realtà sono quelle persone che consentono a Bari di essere rispetto a tutte le altre città del sud la città più ordinata, con il traffico più sotto controllo e soprattutto la città più sicura tra tutte le capitali del sud, Roma comprese. Mi sembra ci sia una telefonata. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, posso parlare col sindaco? Buonasera, sono qua. Senta, Emiliano, volevo fare una domanda. Prego. Io ho 45 anni, non riesco a trovare un becco di un lavoro. Signora, lei più o meno che cosa sa fare? Di tutto, cioè io sono... Signora mia, quando uno dice di tutto vuol dire che non sa fare niente in particolare. Qualchiasi lavoro. Lei che lavori ha fatto in vita sua? Collaboratrice domestica, segretaria. Ho fatto la segretaria in un'azienda dove l'amministratore unico era il signor Lobuono, Luigi. Non mi permetto di disturbare lui perché non sono capace. Ho approfittato di parlare con lei direttamente. Ho una casa da pagare, fitto da pagare, sono separata. Lei ha una figlia di 12 anni, ha detto. Io ho mia figlia di 10 anni che non riesco a comprare un paio di scatte. Mi sono rivolta alle assistenti sociali stamattina per chiedere il sussidio. Fondi nel comune non ce ne stanno. Io sono una mamma che non ha voglia né di essere tolta la figlia, però ho voglia di lavorare. Signora mia, allora la figlia non gliela toglie nessuno. Primo. Quindi stia serena, si rivolga tranquillamente agli assistenti sociali che non... Sì, però io voglio lavorare. Sto pensando di andarmene da Bari per trovare lavori in un albergo. E guardi, purtroppo io l'ho vissuta questa esperienza di andarmene da Bari. qualsiasi cosa. Voglio soltanto lavorare onestamente, non in modo disonesto. Cioè, almeno farmi provare che sentono 45 anni non sei più valida. A 20 anni devi fare la gavetta. A 30 anni, beh, ancora ancora ci siamo. A 45 anni non sei più niente. Allora, lei sta dicendo delle grandissime verità, perché questo è un problema estremamente serio. Voglio dirle, però, si rivolga tranquillamente alle assistenti sociali e non abbia paura, come qualcuno sostiene, che quando si va dalle assistenti sociali per denunciare un disagio economico si rischi di avere i figli in adozione, perché questa è una sciocchezza. Non è la povertà come tale a determinare un rischio del genere, ma solamente la incapacità di educare i propri figli e non solo per ragioni economiche. Secondo, è chiaro che le hanno risposto perché siamo a 10 giorni dalla fine dell'anno e i fondi per questo tipo di operazioni probabilmente sono esaliti. Ma a partire dal 2010, se la sua è una di quelle condizioni di particolare disagio che richiede un aiuto da parte del Comune, questo aiuto ci sarà e ci può essere. Le voglio anche dire che il Comune di Bari è il Comune della Puglia che dà il maggior numero di contributi sull'affitto, si chiama contributo alloggiativo. Lei può chiedere fino a 1.000-1.500 Euro l'anno di contributo alloggiativo, almeno fino a che il Governo e la Regione ci assicureranno questi fondi e può in questa maniera alleviare la sua situazione. Rimane il fatto però che il problema del lavoro è un problema gravissimo, soprattutto per quelle professionalità generiche che oggi è difficilissimo collocare. Qui c'è gente che quando noi durante la campagna elettorale abbiamo parlato del piano dei 30.000 posti di lavoro, stanno aspettando che io vada a citofonare alla casa per dire che dobbiamo andare tutti a lavorare e pensano che questo lavoro glielo debba dare io di persona. Allora voglio precisare, quello è un piano dove dobbiamo investire 4 miliardi di Euro, un piano dove dobbiamo realizzare 640 progetti, musei, centri espositivi, centri congressi, alberghi, sistemi di trasporto, l'ira di Dio, però le persone che lavoreranno in quei luoghi saranno quelle persone che nel frattempo si saranno formate per poter svolgere quel lavoro. Il dramma vero esiste proprio per le figure come la sua, cioè persone che per età o per storia professionale non hanno, diciamo così, quei requisiti che oggi il mercato richiede e perché uno possa formarsi o riformarsi una professionalità occorre che l'assessorato regionale alla formazione professionale cambi la sua strategia, perché devo dire in questi anni quell'assessorato ha prodotto molto poco da questo punto di vista, molto scontento e quindi mi auguro che davvero queste situazioni, soprattutto relative all'occupazione femminile, possano essere affrontate con una strategia che dia una speranza alle persone, i comuni da soli non ce la possono fare.